Mister Di Lunato, tanta amarezza per questa sconfitta casalinga con il Monopoli. Sì, tanta amarezza perché ci stavamo a fare la prima vittoria in casa, eravamo partiti benissimo, se c'era una squadra dove andare in metà eravamo noi, poi sull'unico errore che abbiamo fatto abbiamo subito gol e non siamo stati capaci di rimediare, anche se anche oggi ci sono alcune decisioni da rivedere. Vedi il rigore di Lunetti e vedi alcuni episodi su ripartenze nostre che ci bloccavano. Fa parte del gioco, io dico sempre che l'errore ci può stare, però bisogna essere tanti l'errore contro Altamura e bisogna essere attenti perché noi tutta la settimana ci alleniamo, la società fa sacrifici e quindi meritiamo anche noi attenzione. Resta il dispiacere per non essere riusciti a ottenere ancora la prima vittoria al San Nicola che è il vostro stadio di casa in questo avvio di stagione. Sì, ci tenevamo a regolare ai tifosi la prima vittoria in casa, purtroppo non è stato così e cercheremo di rimboccarci le maniche e regalargli la vittoria la prossima. Dal punto di vista tattico avete confermato il 3-4-2-1, novità peschetola. Cosa è mancato all'Altamura per arrivare in rete? Perché siete arrivati spesso agli ultimi 20-25 metri, poi forse è mancato un po' di cattiveria, di cinismo. Come l'ha analizzata? Sì, forse sbagliamo molto spesso l'ultimo passaggio, un passaggio che non riusciamo a capitalizzarlo bene e quelle poche occasioni che abbiamo creato non siano stati abbastanza cinici nello sfruttarlo. Ti ripeto, dobbiamo lavorare, continuare a lavorare perché è campionato ancora lungo e l'obiettivo nostro sappiamo qual è e quindi non dobbiamo demoralizzarci per questa sconfitta. Ha parlato del rigore richiesto da Leonetti, ha parlato anche con il ragazzo dell'episodio magari nell'intervallo? Ma certo, è stato chiaro, gli ha tirato la maglia e quindi tu devi avere il coraggio di darle il rigore. Ma anche perché non è il primo episodio che subiamo, iniziano ad essere tanti e questi poi alla fine fanno la differenza in un campionato, però ne prendiamo atto e ripartiamo. Sabato ha trasferta su un campo importante come quello di Catania, lei conosce bene la Sicilia dal punto di vista calcistico, bisogna convertire la rabbia generata da questa partita in una grande prestazione? Ma è sicuro, non deve scalfire nulla questa sconfitta, dobbiamo avere sempre quella voglia di andare a fare il giudato da tutte le parti, abbiamo la forza di poterlo fare e non dobbiamo perdere l'entusiasmo.